Voglio leggervi cosa scrive Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana alla vigilia della fase 2 dell'emergenza Covid-19. Scrive siamo fatti di passione ma siamo prima di tutto esseri umani con le loro paure oppure siamo stati in grado di incarnare al meglio i nostri valori fondanti, lo spirito di Solferino. Questo mi dà la certezza che ne verremo fuori più forti di prima. Viva la Croce Rossa italiana. Presidente, buongiorno, bentornato. Buongiorno, grazie. Grazie a voi. Allora, si capisce da queste parole che lei va davvero, giustamente, fiero dei suoi volontari? Beh, come non esserlo. Insomma, si hanno tutti gettato il cuore oltre l'ostacolo sin dal primo giorno. Devo dire anche prima perché noi avevamo cominciato a fine gennaio con una presenza costante all'interno delle strutture aeroportuali, con quello che ci veniva richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile, di cui siamo struttura operativa nazionale. Ma da quel momento in poi le decine di migliaia di volontari e volontari della Croce Rossa non si sono più fermate. Questo è stato un aspetto che mi ha reso profondamente orgoglioso, anche perché erano consapevoli dei rischi, ma allo stesso tempo erano consapevoli dell'importanza di servire le loro comunità. Allora, Presidente, tentiamo un rapido bilancio di quello che è stato il vostro impegno fino ad oggi. Mi rendo conto che lo spazio ovviamente è limitato. Sappiamo tutti da racconti, da giornali, da ricostruzioni, insomma, che avete fatto delle cose straordinarie. Tenti in un minutino di raccontarcele tutte, se ci riesce. Ci provo. Abbiamo comunque, sono centinaia e centinaia i mezzi d'ambulanza che sono stati messi a disposizione del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tante le tende di triage davanti agli ospedali, ahimè anche servizi più delicati sia nelle strutture Covid ma anche per le camere mortuarie. E poi tutta la parte dell'area sociale. C'è stato un enorme lavoro di assistenza domiciliare, mettiamola così, consegna della spesa, consegna dei farmaci. Fare in modo che le persone immunodepresse non dovessero uscire di casa per fare la spesa e allo stesso tempo aiutare le tante e troppe famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche. Questo, insomma, in sintesi, la parte più importante. Poi c'è tutto un lavoro dietro le quinte di assistenza psicologica, la tanta assistenza che è stata data agli anziani anche nelle case di riposo. Insomma, è stato un lavoro impegnativo. Ecco, e questo lavoro impegnativo, Presidente, è stato anche riconosciuto dalle istituzioni? L'8 maggio noi celebriamo la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. E ci siamo svegliati con un bellissimo messaggio del Santo Padre, il messaggio importantissimo del Presidente della Repubblica, i ministri. E' stato i tanti sindaci, le bandiere della Croce Rossa in migliaia di municipi. Ecco, questo è stato il segno di quanto comunque le nostre comunità abbiano riconosciuto l'apporto dei nostri volontari. E credo che questo sia stato uno dei momenti più belli, forse uno dei più belli della nostra storia, sotto il profilo proprio del contatto, del cementare un rapporto con il nostro Paese. Presidente, raccontiamo anche in che modo continua la vostra attività, attività che non si ferma mai. Beh, guardi, allora innanzitutto continuano i tanti servizi in ambulanza e la parte sociale che ho raccontato verrà ovviamente rafforzata, perché purtroppo, voi l'avete raccontato in diverse occasioni, le difficoltà sociali crescono e questa è quella che noi abbiamo chiamato la seconda pandemia. Ma ci sono due elementi importanti del nostro impegno, dell'impegno delle volontarie e volontari, che in questa fase è fondamentale. Il primo, il campionamento sierologico che dovrebbe partire la prossima settimana. 190.000 italiani dovranno sottoporsi al testa, che consentirà alle nostre autorità di valutare lo stato di diffusione della malattia. Con un campionamento fatto dall'Istat, queste 190.000 persone sono state selezionate apposta per questo. Il secondo impegno enorme è quello di fare in modo che gli esami di Stato per i nostri studenti si svolgano in maniera serena, corretta e in sicurezza. E quindi affiancheremo i docenti, gli istituti scolastici, attraverso il Ministero della pubblica istituzione, con formazione sia a distanza ma anche con presenza in loco, in tutti e 5.900 i plessi dove si svolgeranno gli esami di Stato. Quindi anche questo è un impegno enorme che però ovviamente non troverà impreparati gli uomini e le donne della Croce Rossa. Ecco, di fatto voi fornite un aiuto concreto, diversificato. Come riuscite e soprattutto quali sono le risorse che vi aiutano in questo grande lavoro? Guardi, da un lato, e questo anche grazie a voi lo abbiamo potuto raccontare, è la grande professionalità. Sono volontari ma sono persone che si formano e si preparano per essere d'aiuto concretamente alle loro comunità. Dall'altro la tantissima generosità, quello che noi abbiamo trovato è stata tantissima generosità sia a livello locale, sia a livello nazionale e anche a livello internazionale. Sono state tantissime le persone che hanno voluto sostenerci, sia con beni in maniera concreta, sia con le risorse finanziarie. In più abbiamo un SMS con il 45505 che è aperto fino al 31 ottobre per continuare a sostenere le attività della Croce Rossa italiana nel prossimo futuro. Ecco, il Covid, lo ribadiamo, sta producendo danni incredibili un po' in tutto il mondo. Lei che è presidente anche della società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale, come raccontare tutto questo? È un impegno enorme. Io in questi giorni sto seguendo con particolare attenzione la crescita dei numeri in Sud America e in Centro America. I numeri sono in crescita esponenziale. In Brasile purtroppo il numero dei morti è impressionante. Anche lì ovviamente la Croce Rossa sta cercando di fare la sua parte, come in Ecuador, come in Messico e in questi altri paesi dove sta crescendo. E poi c'è un grande focus sul continente africano. Abbiamo una crescita preoccupante in Sud Africa, sono anche altri ovviamente presenti purtroppo in tutto il continente africano. Quindi il lavoro di prevenzione, di diffusione anche a livello comunitario nei piccoli villaggi, questo è il grande lavoro anche alla Croce Rossa. La presenza comunitaria che noi abbiamo visto qui in Italia si replica o cerchiamo di replicarla al meglio anche negli altri paesi. E questo è fondamentale perché non si verrà fuori anche dalla crisi economica se non si viene fuori dalla crisi legata al virus. Per cui è importante contenere, contenere e contenere. Senta Presidente, prima di salutarci vogliamo dedicare ancora un pensiero ai volontari della Croce Rossa che hanno sacrificato la propria vita per tentare di salvare la nostra. Lei ha detto che incarnano lo spirito delle donne di Solferino. In questo momento l'hanno incarnato davvero nel migliore dei modi. Sì, nel migliore e anche nel più tragico perché comunque lo vedete, c'è poco da aggiungere. Alcuni di loro hanno lasciato figli piccoli, piccoli artigiani, dipendenti, sono persone normali, gente che comunque si incontrava al bar, si incontra per strada, che sceglie di servire la propria comunità, hanno sacrificato la propria vita. Non ci piace chiamarli eroi, sicuramente magari angeli, persone che continueranno ad accompagnarci nel futuro e nella cui memoria comunque noi continueremo a garantire il massimo impegno nel servizio delle nostre comunità. E allora Presidente, grazie, grazie mille a lei e a tutti i suoi volontari. Grazie a Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa italiana. Grazie. Grazie a voi.